Il maestro Vernizzi è un grandissimo collaboratore perché ha fatto gli arrangiamenti e ha scritto moltissimi pezzi di questo CD e di questo concerto che state ascoltando. Lui ha fatto un bellissimo CD per i fatti suoi, qualche anno fa. Si chiamava Maya e ripresenta appunto Maya. Fabio Vernizzi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!